Aaaaaaah! Cos'era? No, 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 per favore, no, che cos'è qualcosa? Ah, no, no, via, 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 via. Allora, inizio questo video alla grande perché qui vi volevo far vedere che c'era Stellar, che è questo cielo stellato che è stato avvistato, che sembra una luna, ma è proprio un cielo stellato. E quindi queste piccole cose che vedete in realtà sono stelle a bassa definizione perché siamo su Minecraft, quindi si vedono i pixel. Ehm, ecco, c'è pure lo zombie che mi sta seguendo, peraltro. Ed è notte, ragazzi, in questo mondo, è da tipo dieci minuti che ci sono dentro. Non diventa mai giorno e questo è il problema di questo mondo. E, ok, perfetto, questo è morto. Allora, ho recuperato un po' di legno così almeno riusciamo direttamente ad andare a prendere le prime risorse che ci servono, anche perché è più pericoloso siccome è sempre notte. Cos'è quella cosa? Ecco, purtroppo, Stellar ha la capacità di far spawnare questi cosi. Ho voglia di farmi andare ad uccidere da loro. Sì, 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 direi di andare a fare questa cosa. Però vedete, scompare. Ecco, questo è strano invece. Ecco, questo tizio qui, io non ci starei molto vicino, quindi ho cambiato idea, non voglio più farmi uccidere da loro. Proprio perché questo tizio, puzza, cioè, non lo so, è brutto. Quindi, non lo so, non mi ispira. L'altro mi ispirava perché era un clown e volevo farmi uccidere da lui. Allora, praticamente, adesso direi di fare una cosa. Io ho fatto una spada in legno perché qua c'è una pecora che vorrei far fuori. Peraltro ci sono anche questi tizi che io non li toccherei minimamente. È tutta opera sua, è tutta opera di Stellar, purtroppo. Ecco, non mi fido, eh, non mi sto a fidare per niente. Però prendiamo la crafting table perché eccoci qua. C'è lo scheletro, vedete, che voleva farmi fuori. Direi di andare a prendere... Ah, il cibo, bene, 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 bene. Queste bacche qua le prendiamo tutte quante perché siamo proprio all'inizio. Io ho due cuori in meno, peraltro perché, ecco, vedete, è pericolosissimo di notte in questo mondo. Perché è sempre notte. Ecco, c'è il clown, stiamo attenti. Mi uccidi tu? Sì, 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 che mi uccidi. Che bello! Che bello! Bene che mi uccidi! Bene, 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 bene. Allora, perché vuol dire che se mi uccide c'è Stellar che, in effetti, non mi sta solamente facendo vedere un effetto ottico, ma mi sta proprio facendo assistere a questo nuovo mistero assurdo. E io per i misteri ci vado pazzo. Ecco, questo qua, che vuole da me? Brutti sono! Mio Dio, guardate qua che boccona enorme! Questa la usano per mangiare, probabilmente, ma per mangiare a noi, mi sa, ragazzi. Ok, allora, facciamo un letto? Non credo serva qualcosa in questo momento, ora che ci penso, ragazzi, perché mi sa che non mi fa dormire. E non è vero, mi ha fatto dormire, va bene, perfetto. Allora, adesso dormiamo e... Ah, caspita, aspetta, ma che stupido! È vero! Non serve a niente dormire! No! E non arriva giorno! Oh, Cristo Santo! Questo potrebbe essere un grave problema, ragazzi. Mio Dio, ok. Quello che dobbiamo fare, allora, è andare direttamente in una miniera e sperare di non morire. Oppure, stare attenti a questi mob, farmi... E che però non posso farmi una fornace, perché ho bisogno di cuocermi il cibo. Ecco, però aspetta un attimo, io ho le bacche, ora che ci penso! Bene, 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 bene! Ho le baccone! Ok, andiamo a prendere... Cos'è? È un pesciolone? Ok, non me ne frega niente, perché dobbiamo anche tenere gli occhi aperti per ogni nuovo mistero che troviamo in questo mondo. E i pesci... Non sono un mistero, ovviamente, ma pensavo fosse un mistero, invece, perché non l'avevo visto bene. E lo scheletro? Che vuole da me? Eh, lo sapevo io, mi vuole proprio far fuori. Va bene, dai, sparami una freccia! Ok, adesso me ne vado, invece. È perché voleva... Ok, voleva spararmi una freccia, invece me ne devo andare, perché non voglio morire, però. Anche se un pochino in questo mondo di Minecraft vorrei morire anche per vedere cosa succede. Magari dopo lo facciamo, ok? Perché... Non adesso. Perché non vorrei morire ora, anche perché perderei tipo tutto. Vabbè che sono all'inizio, quindi non significa niente. Allora, ci sono questi mostri qua che dobbiamo stare molto lontani da loro. Quello è Alberum! Purtroppo sì, Alberum continua a stare nel nostro mondicino, è bello bellino. E se arrivasse giorno, ci sarebbe anche Solar, ne sono sicuro. Però vabbè, insomma, non arriverà mai giorno, probabilmente, in sto mondo. A meno che tipo non sciogliamo la maledizione. Vabbè, senti, facciamo una roba. Siccome non troviamo minimamente una caverna mai nella vita, quello che dobbiamo fare, ragazzi, è una cosa molto semplice. Cioè scavare sotto di noi. Eh beh, sì, eh beh, sì. Ok, per aspetto... No, che cacchio sto a fare? Porco di quello schifoso, scurreggione! Ah! Ok, va bene. Allora, mi faccio il piccone. Così. C'ho come l'impressione che il piccone... Non serva a niente qui, ragazzi. Vabbè, mi scavo sotto i piedi. Ah, non è vero, eccoci qua. Perfetto, bene. Allora, qua potrebbe cavadermi un tizio in testa e uccidermi. Guardate, oh mio Dio, è parte di Stellar questo? Oddio mio, ragazzi. Che cacchio vorrà Stellar adesso da noi? Peraltro non vorrei mai che ci fa cadere una meteora in testa, vi immaginate? Perché Stellar può... Una delle sue abilità è proprio far cadere delle stelle in testa alla Terra. Però, per fortuna, questa cosa l'avevo detto anche nel TikTok, Cioè, scusate, nello short, non nel TikTok. Praticamente avevo detto che Stellar fa questa abilità di far cadere le stelle, ma per fortuna c'è anche il nostro Sole che ci difende. E qualcuno nei commenti ha detto, ma magari è Solar che ci difende. Boh, non lo so, rega. Cioè, fate voi. Non conosco questa questione. Cioè, io ne so quanto voi, onestamente. Potreste essere più esperti di me, per quanto ne so, di questa storia qua. Perché, giuro, io non... Cioè... Boh, sì, potrebbe essere Solar, però se ci pensano... Solar mica era cattivo, perché... Ma forse non è nemmeno sua volontà... Cioè, non è nemmeno la volontà di Solar, tipo, aiutarci. Ma involontariamente, perché ha una forza di gravità, lo sta facendo. Boh, potrebbe essere. Non lo so, ragazzi. Questa cosa dovete aiutarmi anche voi, perché non ne ho la più palida idea. Allora, io adesso direi di fare un piccolo taglietto, e poi... Quindi, prendere il cibetto, e poi dopo ritornare in superficie e vedere un attimo se arriva il giorno, ma ne dubito fortemente! Ok, allora, abbiamo raccolto tutte queste cosucce. Ho sentito una freccia essere sparata da qualcuno, e... What the f... Ehm... Cosa... Aspetta un attimo, raga, non era così, giuro. Cioè, c'era Stellar prima. Che cac... Oh, Cristo santo, cos'è successo? Ma cos'è successo? Ma... Cos'è... Ma, raga, scusate un attimo. Ma sto impazzendo io, oppure... Cos'è successo? Ma... No, non sto capendo. Allora, adesso c'è la Luna. E fin qua, ok. Quindi... Stellar... Cos'è? Si è diviso Stellar? Ma guardate, anche sotto si divide. Ma... No, vabbè, raga, cos'è successo? Ma assurdo! Ma non ha senso! Ehm... Ok, ho paura che davvero possano cadere delle stelle sulla nostra terra in questo momento, ragazzi. Cioè... Stavo cuocendo il cibo. Io non ho sentito niente, ma non è nemmeno successo niente, ragazzi. Stavo cuocendo il cibo. Era finito. Stavo per... Vabbè, avete visto tutto quanto in diretta? Perché io... Cioè, era tutto in diretta quella cosa lì. Ok, allora, adesso torno subito sotto. Perché dobbiamo prendere anche della pietra. Poi indaghiamo meglio questo mistero, anche se non so se c'è da indagare, anche perché le stelle non le possono raggiungere. Cioè, la cosa l'abbiamo vista. Ma cosa, caspita, è appena successo? Ma assurdo! Quindi, praticamente, Stellar è come se si fosse diviso in questo momento. E... E boh. Cioè... E boh. Cioè, non so. Ma non ha... Non ha senso, però. Giusto? Ragazzi? Ma sentite anche voi? Cos'è? Ma... Allora, io stavo indagando per trovare delle nuove risposte su Stellar. Anche perché non... Non mi sembra normale questa cosa. Io ho sentito qualcosa qui. No, 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 no. Cosa sei tu? No, 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 no. Sei brutto. No. Ma... Mi sa che cosa qua, ma... No, se lo colpisco, spawn altri tizi piccolini. Ma che cos'è? Ma quindi sti qua praticamente ti fanno sbam, sbam a terra e ti richiamano praticamente. Ok, quindi quando sentiamo questo rumore non dobbiamo andare. Eccoci. Eh, no. Brutta storia, brutta storia, brutta storia, brutta storia. Ma solo a me sembra oppure qua le stelle cambiano il modo? Cioè, magari solo a me sembra. Cioè, non so. Perché forse non sono ancora abituato con queste stelle qua di Stellar. Mannaggia, lui è impazzito completamente, brutto, puzzone, scurreggione. Più che altro, la cosa che mi mette ansia in questo momento è che c'è questo coso che mi sta inseguendo. Quindi, quello che dovrei fare è prendere la crafting e proprio craftare una barca, così, scapparmene via perfettamente da quest'isola pazzesca. Ok, vedete? Lui era lì che stava cercando di inseguirmi. Guardate, quello mica è Saturno, tipo, o Marte, forse, non so. Perché o è un pianeta oppure è tipo una stella particolare. E queste stelle, ragazzi, ho paura che mi cadano addosso. Dai, ma cos'è? Assurdo. Ma dove siamo finiti, mio Dio? In che mondo siamo finiti? Peraltro, guardate, siamo completamente soli. Adesso vi immaginate che questo è un mare infinito, in realtà non finiremo mai di remare, di viaggiare in giro. Perché ormai siamo bloccati, tipo, in un mare infinito. Ecco, tipo, non vedo nemmeno più la fine. Basta, siamo dentro in mezzo all'oceano. Ok, mi sto preoccupando, mi sto preoccupando chiaramente, ragazzi, come vedete. E non so se questa cosa è buona oppure no. Ovviamente non è buona perché sono in mezzo all'oceano che sto remando. Ci sono degli affogati in giro. Ci sono le stelle che mi osservano. C'è Stellar, ricordiamolo, con le sue stelle pazzesche. E ci sono cose strane in cielo, insomma. Boh, e qua non succede niente. Assurdo. Ma che mondo è questo? Ma che mondo è... What? Aspetta un attimo, lì c'è un bioma. Ok. Forse questo è buono, eh. Quello è il bioma lì. È il bioma, peraltro, delle Mushrooms. Ed è piccolino, come vedete. Perché mi sembra solo un'isoletta, praticamente, come vedete, purtroppo. Perché io vorrei ci fossero in questa... Ma guardate lì. Ci sono anche gli scheletri, mostri, schifosi e tutto quanto. Non so nemmeno se ci conviene fermarci qua, ragazzi. Peraltro questo bioma qua, mi sembra strano che l'abbiamo trovato subito, perché è super raro. Ma ho appena detto che è super raro, ce ne sono due di biomi così. E allora, voi non sapete quanto è raro. Cioè, allora sì, magari lo sapete anche, però dico, è un modo di dire. Cioè, è incredibilmente raro. Cioè, non si trova questo bioma facilmente. Eppure qua ne ho trovati due insieme. What, ragazzi? Ma che senso ha? Tu, non ti prego, vai... No, no, no. Ma cosa fa? Brutto, brutto, brutto. No, 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 no. Via? Via, 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 via. No. Ma ce ne sono due, peraltro. Che schifo, che schifo era. Oh mio Dio. E lì c'è pure il Tempio Sottomarino che col cacchio che ci vado. E quello là è super complicato. Ma poi non ci serve nemmeno a niente in questo momento. Dovemo indagare sul mistero di Stellar. Peraltro questo uomo ha dato pure un pezzo di ferro. Grazie mille. Grazie mille, bro. Gentilissimo. Un pezzo di ferro accettadissimo. Vabbè, sentite. Andiamocene via da questi due biomi, peraltro. Perché qualcosa qua mi puzza. Mi puzza molto. Non so. Cioè, non mi sembra normale. Cioè, potrebbe sembrare normale. Magari è anche normale. Magari sono io che sono impazzito completamente. Però mi puzza. Anche perché poi non c'è niente in tutto l'oceano. Ci sono solamente questi due biomi, appunto, super rari in giro. Non lo so. Mi puzza. Andrei via prima di morire. Voi che dite? Eh, però, il problema adesso è sempre lo stesso. Che è... Siamo in mezzo all'oceano e non c'è niente. Magari forse... Oh, Dio mio. Quello, ragazzi. Non so se riuscite a vederlo dal video. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché devo mettermi bene. Se no, proprio non lo vedete per niente. Quello è Alberum. Oh, Cristo. Dio. Ci osserva dappertutto Alberum. È incredibile, comunque. Questa cosa dei nostri misteri che abbiamo trovato. Sono assurdi, veramente. Eccolo, appena detto, eh. Appena detto. Questa è tutta una foresta piena di Alberum. Guardate. Non so se era meglio stare dove eravamo prima oppure qui. Perché andandomene ho come l'impressione che le cose siano peggiorate. Perché abbiamo trovato Alberum. Abbiamo trovato dei biomi un po' strani. E poi, vabbè, insomma. Però, se ci pensate prima, sull'altra isola dove eravamo prima, erano spondate queste stelle. Quindi, secondo me, abbiamo fatto bene ad andarcene, no? Bene. Ciao Alberum, come va? È da un po' che non ti vedo, porco di quello schifo. Ci sono gli scheletri. Odio la notte per questo motivo qua. E pensate che in questo c'è sempre notte. Peraltro, oh. Cos'è? Ma cosa? No. Ma che cacchio? Ma ragazzi, ma non ha senso. Ma cos'è? Oh, Cristo Dio. No, 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 no. È pieno di gente brutta. È pieno di gente strana. Cioè, io non voglio essere... Non voglio sembrare che tipo allontano chissà. Però, insomma, se uno mi fa un sorriso così mi inquieto un pochino, no? Ciao, tizio. Eccoci. Se uno poi mi attacca, devo rispondere con l'ascia, ovviamente. Eccoci qua. Cosa sei? Oddio mio. Questo è uno scheletro normale, per fortuna. Vabbè, questo è abbastanza ok. Ti prego, te ne vai via. Dove sei? Ciao. No, 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 no. Non ti prego, non so. Ho anche perso le mie abilità di combattere a Minecraft. Però, quello che posso fare... Non posso fare niente perché tanto qua è bloccato. Allora, quello che posso fare è scapparmene via. Proprio, ciao, così. E mangiare, ovviamente, prima di morire. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Aiuto! Eccoci, qua c'è il tizio di prima, ovviamente, certo. Cristo, ma, ma, cioè, scusami, ma posso stare per due secondi e recuperare vita senza che ci sia un cacchio di scheletro che voglia uccidermi? Che, a quanto sembra, siano... Ma io, raga, assurdo come le cose più pericolose di Minecraft sono sempre le cose che hanno aggiunto. Mai? Cioè, tipo, avevamo aggiunto AeroBrain, avevamo aggiunto Sol, avevamo aggiunto tutti, ma i più pericolosi continuano ad essere gli scheletri, i creeper e gli zombie. Perché ne spawnano tanti, quindi... Cioè, è assurdo. Ma non, cioè... Un po' più semplice, no? Vabbè. Questa è una piccola cosa. Adesso, andiamocene via da qua, prima che ci uccidino, ci dà lo scheletro, sai, sarebbe un po' strano morire per uno scheletro, ovviamente. Ha una mucca, io direi di prenderla, anche perché abbiamo bisogno di cibo, quindi mi spiace mucchettina. Ecco, questi, ovviamente, gli zombie, ho appena detto che, insomma, è difficile sopravvivere con gli zombie e gli scheletri, e ovviamente devono arrivare. Va bene. Ah, 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 lo sapevo, vi abbiamo trovato qualcosa, intanto qua ci sono gli scheletri, vabbè, dai, ma è pieno, è pieno, è pieno. Ma non è possibile. Peraltro, ok, questo è il cibo, che direi di mangiare, ok, perché sennò qua ci moriamo proprio di fame tantissimissimamente. E andare qui, perché non mi sembra normale questa cosa, quindi andiamo da questa parte. Non mi sembra ci sia nessuna costruzione di Minecraft di questo tipo, quindi... Mmm, non saprei, non saprei. Ma sì, vedete? A parte che, vabbè, c'è sempre Alberum dentro. Per carità, posso entrare, grazie. Ma che cos'è sto posto, scusatemi? Eh no, aspetta, questo è uno spawner, che cos'è? Non voglio sapere, voglio solo che si rompa. Ok, non voglio che mi spawnino gente strana, quindi rompiamo questi spawner qui, perfetto, perché sennò poi dopo spawna gente strana. Cioè, avete capito quindi dove siamo? Siamo in un posto dove ci sono delle tombe, e io adesso non vorrei profanare niente, però, insomma, ci sono delle tombe. Ma poi non è vero, cioè non c'è niente qua praticamente. Cioè, aspetta un attimo, che cacchio di materiale è questo? Cos'è che? Piece of Allora. Un pezzo di Allora. Cos'è Allora? Cosa si fa con l'Allora? Che poi, vabbè, sembra tipo Allora. Però, davvero, cosa si fa con questo pezzo di Allora? Magari si fanno tipo dei picconi. Boh, vediamo adesso. Prendiamo la crafting table e cerchiamo di craftare qualcosa, magari ci dice nel libro. Cosa possiamo costruire con Allora? Allora? No, non mi dice niente. Invece se facessi tipo, provassi almeno a fare un piccone, non credo, eh. Eh no. E allora non so cosa faccia questo Allora. Però, 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 però mi viene da prenderlo onestamente, perché potrebbe essere utile, no? Magari contro i mostri, non lo so, vabbè. Adesso non vorrei nemmeno perdermi in chiacchiere, certo. Mamma mia. Mi sono perso nelle ragnatele, invece. Mio Dio, quanto danno fastidio le ragnatele su Minecraft. Potevano toglierle. Vabbè. Allora, quindi, a parte l'Allora, non... Cioè, boh, questa... Quindi sembrano delle tombe, delle catacombe. Io sono caduto come uno scemo, ma vabbè. Non importa. Ehm... Ok. Quindi c'è una tomba in mezzo al... Al lago. Che non è... Già dire questa cosa è strano, no? Perché le tombe di solito stanno... Oddio, che spavento. Le tombe stanno in mezzo ai... Insomma, ai campi, non... Ai laghi, però va bene. E... Ragazzi, abbiamo notato un po' di cose strane in questo mondo. Boh, scrivetemi nei commenti se... Mh... Vi interessano questi mondi, se vi interessa questo seed. Eccoci qua, c'è un'altra cosa. Brutto, 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 brutto. Ok, perfetto, così. Recuperiamo vita. Questa casa, ragazzi, chi caspita l'ha costruita? Punto di domanda. Perché c'è una casuccia, peraltro? Io posso anche disattivare la luce, vedete? Perché io ho questa cosa della luce, eh? Perché... Oddio. Chiudi, 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 chiudi. Ok. Chi è stato a costruire questa casa, ragazzi? Chi, caspita, è stato? Allora, io me la prendo. Perché, insomma, potrebbe essere utile, no? Onestamente, abbiamo trovato una casa in mezzo al nulla. Direi di tenercela assolutamente. Va bene, qua non c'è niente. Non lo so, mi sembra molto strano. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo mondo. Questo sì, da me fa paura. Sono sicuro che ci sia qualcosa di strano, proprio perché ci sono mostri che non ci sarebbero. E poi, soprattutto, ci sono le stelle che si comportano, insomma, come vogliono. Non so, è strano. E quindi, boh, lasciate like, iscrivetevi al canale e seguitemi per i prossimi video. Ciao!